Esattamente così! Siamo di nuovo nel Minecraft Super Vanilla, velocemente bellissimo. Allora, praticamente cos'è che c'è in questo vanilla molto bello? Vedete quell'albero? Quell'albero per esempio su Minecraft normale non c'è, perché questo è Minecraft moddato! Esatto, avete capito bene. Io posso saltare due blocchi, non so perché, non chiedetemelo perché, questa cosa proprio non l'ho capita, però vabbè. In questa vanilla ci dovrebbero essere dei biomi mai visti comunque, perché io ho visto che c'è una mod chiamata Biome o Plenty, che praticamente inserisce dei biomi bellissimi. E vedete quel castello? Quel castello, ho deciso, sarà casa nostra, magari lo abbelliremo anche in modo molto più bello, ovviamente. Però, non lo so, vorrei trovare nuovi biomi, per esempio questa. Questo è un nuovo bioma che non c'è, o comunque almeno ci sono... Cos'è questa cosa? Tunisia... Tunisiani, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, perché iscrivervi al canale di uno youtuber, vi spiego. È come trovare un nuovo amico, perché praticamente... Cosa fai con i nuovi amici? Inizia avventure straordinarie insieme a lui, sulle montagne più assurde, bla bla bla, insomma. È come un amico comunque, cioè, no? Molto bello, secondo me. Cos'è questa cosa? Ah, certo, praticamente, questo dovrebbe essere... Cioè, ci sono delle blackberries in giro, no? Camminando per questo mondo. Praticamente queste sono bacche che se tu mangi... Vabbè, ti sfamano, diciamo, ti sfamano. Allora, io direi di andare da una certa direzione, perché mi ricordo che io... Noi siamo arrivati da questa parte, ok? Quindi, per non... Per non saperne leggere... Allora, porca miseria. Oggi, Tunisiani, vi confesso una cosa, non so parlare, ok? È questa, purtroppo, la situazione mia che incombe in questo momento. Però, comunque, ricordiamoci di questo posto, anzi, io mi salvo assolutamente le coordinate, perché adesso sicuramente, no? Voi direte, ma cosa sta dicendo questo Dunis, spazzo psicopatico? Praticamente ho fatto questo crafting pad, perché praticamente dovrebbe essere una crafting table, ma portatela, cioè, non dobbiamo metterla in giro. Vedete? È una magia. Cioè, obiettivamente su Minecraft Vanilla, cos'era questo rumore? Vabbè, su Minecraft Vanilla non ci sono cose di questo tipo. Veramente è una cosa pazzeschissima. Invece su Minecraft normale ci sono, cioè, nel senso, su Minecraft moddato ci sono. Allora, però, dobbiamo trovare altre cose, per forza. E anche altre miniere, sarebbe bello, perché ci sono nuovi minerali in questa Vanilla. Ci sono nuove stratosferiche cose da scoprire che non abbiamo mai visto in Minecraft, ma che scopriremo andando avanti. Cosa sta succedendo? Non ne ho idea. Si stava sentendo un rumore strano, stava facendo pure cose strane. Questo tizio qua strano, come al solito. Ve l'ho già detto che è strano, molto strano, sì. Ah, e comunque è anche strano, tra l'altro. Allora, scherzo, la smetto. Allora, guardate che bello questo paesaggio. Cioè, ditemi se non sembra reale. A me sembra reale, poi fate voi. Dunis, tu sei bravissimo. Però sei anche un po' cogli... Eh? Allora, scusa, ma è possibile? Io mi chiedo, è possibile andare, ritornare nella stessa direzione da dove siamo venuti la scorsa volta? C'erano le stesse identiche capre nello stesso identico luogo. Io veramente non ho parole. Non ho più alcuna parola, dunisiani. Cioè, veramente, mi sto per dare gli schiaffi da solo, eh? Non è possibile. Scherzo, voi non fatelo. Ovviamente io scherzo, mica mi do gli schiaffi. Eh, ok, andiamo da questa parte. Sicuramente troveremo nuovi biomi andando da questa parte. Io me lo sento. Ah, poi, fra l'altro, vedete che la mappa in alto su ci indica il fatto che, per esempio, la mappa non è stata esplorata. E quindi noi possiamo seguire questa cosa, no? Possiamo seguire questo, come dire, questa indicazione, no? Che ci dà questa mappa magica per sapere se abbiamo esplorato una zona oppure no. Eh, ho premuto CTRL al posto di, ehm... Al posto di shift, per shiftarmi. Beh, eh, si sa, sono molto bravo. E qua adesso, invece, non sto premendo niente. Vabbè, eh, sono molto strano oggi, non so, avrò qualche crampo al cervello. Sarà perché mi è arrivato il nuovo libro e voglio anche leggere il nuovo libro. Cos'è? Scusate, ma cos'è quel... Quell'albero là? No, scusate, voglio sapere cos'è quell'albero là. Eh, ma che bioma strano. Sto scherzando. Porca miseria. Poi dobbiamo venire anche ad esplorare questo canyon, eh. Però prima esploriamo questo albero. Ma cos'è? È enorme! È un albero grandissimo. Porca miseriaccia, là. Stiamo attenti, però, perché, cioè, qua ci possono essere strane, strane creature. Come la mia lingua che oggi non c'è praticamente, no? Giustamente. Allora, praticamente questo dovrebbe essere la warm blossom, dice. Oppure, vediamo come si chiama questo legno se noi scaviamo questo albero bellissimo, bellissimo, ma sprucce log. Ma avete notato, scusate, che ho notato una cosa? Porca miseria, scusate, lo so che ho detto di andare a vedere... Ma cos'è sta roba, no? Scusate, i tunisiani, queste cose sono pazzesche. So che ho detto di andare a vedere il canyon che c'è dietro. Ma qua? Ma cosa, 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 caspita c'è qua? Ma vogliamo mettere... Ma stiamo scherzando? Ma siamo, siamo proprio fuori di capoccio? È la madonnina. Ma madonnina. Stavo dicendo, avete notato che non ci sono più rumori tipo vento e uccelli? E adesso sono ritornati invece. Madonnina. Devo smettere di dire madonnina. Però porca miseria. Ma che posti... Ve l'ho detto, eh, cioè questa è una nuova avventura con Dunis. Che certo non sa inquadrare nemmeno... Eh, c'è un orso! Stavo per dire un orco. Però mi son corretto. Un orso enorme! Porca di quella miseria. Questo è sempre un cinghiale. Ma, cioè... Che bello esplorare questi posti. Scusate, no, bellissimo. Sto amando questo modpack. Lo sto amando perché aggiunge cose che non si sono mai viste su Minecraft. Finalmente aggiungerei io. Finalmente. Cerchiamo di esplorare i segreti, no, di questa foresta. Magari troveremo qualcosa di strano, no? Magari troveremo una nuova cosa di cui preoccuparci, no? Non so se avete visto il video di ieri. Quello là super inquietante. Quello... Eh... C'è uno scogliattolo! Ah, uno scogliattolo, signore! Signore, uno scogliattolo. Scogliattolo. Vabbè, lasciamolo perdere. Però io volevo lo scogliattolo come amico. Perché non posso avere lo scogliattolo come amico? Domanda. Ma guardate qua. Ah, ma sembra di essere in mezzo davvero di una foresta. Wow. No, bellissimo, bellissimo. Troppo bello, troppo bello. Allora, esploriamo nuove cose perché... Adesso dobbiamo per forza esplorare. Eh! Scusate, non è che non possiamo esplorare. Adesso esploriamo tutto. Tutto quanto. Poi, girandosi, ad ogni nuovo passo c'è qualcosa che... Tipo qua. Cos'è questo coso, eh? Andiamo a vedere cos'è questo coso. Proprio niente, un cespuglio come tutti gli altri. È bellissimo comunque. È bellissimo. E mi brudda il naso. Non so perché mi brudda il naso, ma... Probabilmente è perché... Non so, me lo devo tagliare. Mi devo tagliare il naso. Nuovo cibo. Allora, queste torce le togliamo dalla mano perché stanno rompendo le scatole, per non dire qualcos'altro. Sì, però queste... Allora, prendiamo subito i frutti. Perché questi qua sono tipo... Non i frutti, ma i semi, tipo. È però bellissimo. Queste sono... Ah, no, sapete cosa sono queste? Avete proprio capito bene. Sì, sono le fragole. Le fragole. Altre fragole. Porca miseria. È bellissimo, eh? E vediamo... Scusate, visto che si sta facendo notte, vediamo se c'è il campfire. Perché... Eh, esatto, c'è il campfire. Vediamo se funziona così, perché io sinceramente non so... Però, prima di tutto, dobbiamo andare a prendere degli... No, due nisei... Eh? Eh, avete visto? Mi ha dato tutto. Eh, no, è una roba pazzesca, scusatemi. Allora, prima di tutto, così... Se non mi sbaglio, poi così... Adesso facciamo campeggio, tunisiani, eh? Cioè, non so se avete capito. Facciamo campeggio, facciamo campeggio. Sì, 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 sì. Però sarebbe bello, tipo, fare... Allora, prima di tutto, prendiamo tutto sto al... No, ma... Scusate, è bellissimo. Cioè, noi con l'ascia riusciamo a spaccare un intero albero. Non so se vi rendete conto della figata che è sta roba. Cioè, io vado così, prendo 30.000 alberi, più i sapling. È bellissimo. 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 Allora, però adesso dobbiamo stare attenti, perché... Non so quali pericoli ci possono essere. Non so assolutamente quali pericoli ci possono essere. Io mi sto anche cagando addosso, fra l'altro. Ah! Eccoci. Eh, stiamo attenti, eh, perché l'ho appena detto. Allora, se... Non so se riusciti a vedere qualcosa, però, praticamente... Praticamente, la notte è arrivata, è giunta, e praticamente ci sta dicendo di stare attenti, perché da un momento all'altro ci potrebbe essere, non lo so, un qualche cosa di terribile. Però se noi qua, in questa mod, perché praticamente abbiamo tutta questa mod che ci dice, per esempio, come fare questa cosa, che è una crafting... Non so cos'è, una teleportion core. Non chiedetemi che cosa sia, eh, non ne ho la più palida idea. Praticamente ci dice come fare le cose. E ci dice pure tutte le cose che ci sono in questa mod. Per esempio, se noi andiamo a cercare una cosa magica, tipo... Tipo wand, che in inglese vuol dire... Sì, la bacchetta... Perché, allora, in inglese wand vuol dire tipo bacchetta, no? Però praticamente, secondo me, non è quello che volevo mettere. Perché, allora, magic, tipo... Sì, esatto, tipo c'è il magic log, per esempio. Sempre della Biomoplantis. Quindi, praticamente, andando in giro, io voglio questo legno qua. Il blu, è blu. Non so, avete capito, è blu, è blu, è blu, è blu, è blu. All'ausilio della luce divina, quella là che ci dona la vista. Eh? Quella là super quanto, tutta quanta bellissima. Stiamo attenti ai creepers. Attenzione ai creepers. Ma se io, tipo, inizio a picchiarli... No, 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 scherzavo. Non inizio a picchiarli. Stupido villager, vattene via. Questo letto è mio per sempre, ciao. Dormi. Esatto, son dormi... Cioè, dormo, dormo. Oh, che bello, che bello. Finalmente... Scusa, non volevo darti un pugno di villaggero. Sei molto simpatico, ma anche un po' brutto. Giustamente. Perché i villager hanno una zona enorme, no? Un po' troppo grande. Vediamo un pochino. Abbiamo queste cose qua. Però, scusate, queste cose di Minecraft Vanilla normale non è che servano tanto. Cioè, io sono curioso di scoprire quali sono le nuove cose. Quindi vediamo se questo villaggio ha tipo, non lo so, del cibo. E se non ha del cibo, allora ci ne andiamo. Gli raccattiamo solo il cibo. Eh, scusate, nient'altro. Perché tanto le cose di Minecraft Vanilla non è che mi interessino molto. Sentite, mamma mia, tutti gli uccellini. Sembra davvero di camminare nella natura, praticamente. Davvero, eh. Cioè, adesso però prendiamo tutte queste cose perché ovviamente ci servono per sostenerci col cibo. E adesso potremo anche di nuovo utilizzare il nostro magico crafting pad, si chiama. Che è praticamente la crafting table portatile. Cioè, io sono ancora meravigliato per questa cosa. Per questa invenzione dell'era moderna. Perché praticamente non serve piazzare la crafting table. Cioè, non so se avete capito. Ma è una roba veramente pazzesca. Cioè, è veramente pazzeschissima. Bellissima. Epica. Tunisiani! Non so se avete capito. Non so se avete capito. Questa è una waystone. Ho rotto la waystone. Ok, no, no, no. Questa praticamente ce la possiamo portare a casa. No. No, allora stavo dicendo. Questa waystone ce la possiamo portare a casa. E praticamente possiamo settare lo spawn là. E poi praticamente ci possiamo teletrasportare se ne ritroviamo un'altra in giro. Cioè, robe veramente da pazzi. Ma guardate qua, scusatemi. Cioè, robe davvero da pazzi. Cioè, guardate questo bioma. Cioè, ditemi se non è la cosa più bella che abbiate mai visto in Minecraft. Perché per me, per me, è davvero. Allora, non è la cosa più bella che ho mai visto, però è sicuramente molto molto bella. Sicuramente è una delle più belle che abbia mai visto. Questo è un bioma. Secondo me fa sempre parte di quella mod, no? Della Biom of Plenty's che vi dicevo prima. Ma guardate qua. Porca miseria. Cioè, sì, fa parte della Biom of Plenty's. Questa cosa sarebbe la Yacaranda Blossoms. Praticamente questo sarebbe il legno di Yacaranda. Un legno veramente straordinario. Cioè, veramente bellissimo. Io non so come definirlo. È veramente una bellezza unica. Una bellezza... Scusate, tu mi sei. Ma, cioè, vogliamo mettere? Ma vabbè, forse vi sto annoiando io. Sembro tipo... Avete presente quei tizi che tipo fanno... Allora, questa pianta è composta da queste cose. Molto bella, molto molto bella. Però veramente, cioè... Che razza di bioma è questa? È bellissimo. In Minecraft non c'è mai stato una roba di questo tipo. E se io trasformo questo coso in... Ah, vabbè, è semplice, è semplice. Ho capito. Ma è bellissimo. Spezzo anche quest'albero perché... Capito? Mi stava antipatico, visto che era uno di quegli enormi, no? Che cresce tutto quanto brutto. Che poi in Minecraft vanilla ci metti 30 anni. Invece qua ci metti due secondi a spaccarlo. Ma questo è tipo un meteorite, scusate? Cioè, è caduto qua un meteorite? Però qua ho trovato del ferro e quindi lo prendo. Allora, diciamo che il ferro ci serve sempre, ok? Cioè, il ferro è fondamentale. Fatemi anche sapere se volete vedere altri episodi di questa serie, eh? Cioè, magari... Magari, non lo so, magari non li vedete... Non li volete più vedere, io non ve li porto più. Però se li volete vedere, allora me lo dovete scrivere così. Io so se portarli ancora oppure no. A me piace davvero un sacco questa serie. E vi giuro, questo episodio non lo vorrei proprio terminare. Allora, facciamo così. Sarei tentato ad andare ad esplorare le caverne, ma le caverne le esploreremo nel prossimo episodio. Duniziani è... Non so se vi è piaciuto questo episodio. Spero di sì, perché a me è piaciuto davvero registrarlo. Però mi rendo conto che forse per voi non è che sia stato un gran che da vedere. Poi se vi è piaciuto, invece, scrivetemelo nei commenti. Perché io sarò felice di leggere i vostri commenti dove mi dite che vi è piaciuto questo episodio. Se vi è piaciuto per davvero, però dico, eh. Non fate che mi scrivete solo per pietà, perché allora non vale. Io devo sapere cosa portare, quindi mi dovete aiutare voi. Però là, mi sembra di aver trovato un'altra cosa. Sto trovando 30.000 cose, veramente. Davvero un sacco di cose. Una roba pazzesca, eh. Ah, qua praticamente c'è l'erba alta. Vero, c'è un'erba altissima che praticamente non si vede niente. E' uno di quei biomi... Un po' brutti, eh, perché non è che si veda molto. Mannaggia. Prendiamo solo quest'albero perché... Così ce lo togliamo dalle scatole. Ok. Vabbè, io direi che questo video può finire con questa vista qua, magnifica. Cioè, guardate là. Porca miseria. Piango, piango troppo, piango troppo. E Doniziani, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.